Oggi Robby ti metterò alla prova, sì perché ti farò provare il love test Ma perché mi devi mettere sempre alla prova? Una volta che dici Robby oggi ti premierò dandoti 500 euro No, sempre che mi devi mettere alla prova, va bene No, perché si sta avvicinando San Valentino e devo essere sicura che tu sia un ragazzo fedele Cosa San Valentino? San Valentino, me ne sono ricordato, me ne sono ricordato Allora, iniziamo subitissimo Io direi prima di tutto di... Robby che stai facendo? Non sto su Amazon a comprarti un regalo Ti eri dimenticato di San Valentino? No, 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 vai, vai Va bene, va bene Robby, allora vedremo la nostra percentuale perché dobbiamo sapere prima se noi andiamo d'accordo secondo il gioco Ah, secondo il gioco perché secondo me noi andiamo d'accordo No, 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 più o meno hai detto, hai detto bene, più o meno È il 90% dico io No, io dico no 9 sarebbe 90% Vabbè Siamo d'accordissimo anche per il gioco Bene ragazzi, il video è finito No, perché voglio vedere se qualcuno supera il nostro amore C'è qualcuno nel mondo del cinema, del web che ammiri? Che ammiro? Sì, devi essere sincero è perché i nostri amici ci stanno guardando e stanno per lasciare un like alla tua risposta, vai Secondo me è bravissima a ballare Alessia Lanza Ancora con questa Alessia Lanza? Ma perché ogni volta la devi nominare? E tu hai detto qualcuno del web che secondo te è... Anche io so fare i balletti come Alessia Lanza, guarda Si è per inventare una canzone in un balletto Allora, vediamo 10 per l'inventiva Roby più Alessia Lanza Ma scusami, ma perché devi fare per forza questa così? Non voglio sapere No, no, allora Ma se sei 10, come faccio adesso a rimanere? Allora, chiudi gli occhi e se esce una percentuale più alta della mia o uguale alla mia, riceverai uno schiaffo Ma che no, 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 no Vabbè, calcola, io non chiudo niente, non mi comandi Oh, vediamo Che cos'è? 9 Allora, 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 allora Sì, 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 che cosa dici in tua riscolpa? Dico che devo chiamare Alessia No, che cosa? Pronto Non ci credo In pratica, inizia a provare un sentimento tanto quanto il nostro per Alessia Lanza Va bene, Roby? No, è profonda stima, rispetto, è profonda stima Io apprezzo, apprezzo Allora, sai che ti dico? Adesso metterò Dani insieme ad un'altra persona Allora, adesso metteremo Dani Più qualcuno che ti sta sempre vicino Qualcuno che mi sta sempre vicino? Sì, loro lo stanno già guardando Eh, eh, ma chi è Roby? È Matti Matti? Ma no, è un mio amico Io non tradirei mai la mia amica Hai visto? Te l'avevo detto Però il sei ribaltato è un 9 Ah, sì, sì, certo Guarda che in questo video sei tu che stai avendo torto Ora voglio provare una cosa Torto, allora sei Roby più Matti? No, no, no Tanto che inizio ad avere percentuali molto alte con chiunque Lo approverò con la mia migliore amica Ninna Voglio vedere cosa esce Ma non è che magari sono io che faccio andare bene le relazioni? Di conseguenza sono numeri alti perché ci sono io dentro? Questa è la nuova perla del giorno No, no, Roby Che cosa stai dicendo? Allora, ragazzi Io sono d'accordo con tutti No, 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 no Non mi interessa Io non voglio ascoltare Eh, vedi, vedi Sei tu che fai così Non mi interessa Voglio che vi iscriviate al canale Perché questo video potrebbe essere pazzesco Perché io e Roby potremmo finire qui la nostra relazione Lo vedi? Che sei tu quella che vuole sempre finire la relazione E fare cose del genere E a me va bene qualsiasi cosa Roby più Ninna E quanto fa? Nove, vedi Qualsiasi persona con me fa nove Perché io sono una persona che sa amare, Dani Io so amare, so dare amore Allora, allora voglio provare Roby più Roby Voglio vedere se tu fai dare a bere le cose Ma io do amore, non ricevo amore Quindi tre Perché io il mio amore non lo tengo per me Lo do agli altri Alle altre, alle altre ragazze Allora sai che ti dico? C'è un attore che a me piace tantissimo Anzi Roby Anche un calciatore che mi piace tantissimo Sempre Roby No, non sei tu E Roby? No, è Alvaro Morata Chi? Alvaro Morata E vediamo Il marito di Alice Campello È già sposato Allora come fai ad avere un'ottima Eh beh, lui può avere un amore nascosto per me Non lo so Allora proviamo Dani più Alvaro Morata Ok Ma da quando segui il calcio? Io da sempre E di nascosto Non te l'ho mai detto Sì, ma lui mi sa che non sa manco che esisti Non proprio Vedi se ci sei tu di mezzo i numeri Tu oggi stai rischiando grosso Ora proveremo Roby Qual è Robo? No, ho sbagliato Ciao, sono Robo Robo, Bobo, Robo Ciao, sono Robo Robo, Bobo, Robo Metterò Roby con Emily Pallini L'amica di Alessia Lanza Dato che tu le segui molto sui social Voglio proprio vedere cosa uscirà Vabbè, Dani io apprezzo la danza E chi sa ballare? Allora Vediamo, vediamo Ma anche io so ballare Tutti quanti Sì, Dani Ma io sono una persona rispettosa Se sono Se sono Se sono Se sono Se sono cosa? Se sono super affiatato con Alessia È ovvio che posso solo rimanere amico con Emily Allora Sapito No, questa cosa Questa teoria non mi convince Voglio sapere voi Cosa pensate di questa cosa E scrivetelo nei commenti Mi raccomando Comunque tu con la tua specie di crash hai avuto due Io Almeno la sufficienza ce l'ho sempre Allora proviamo Dani Con il mio amico Kazoo Voglio vedere proprio cosa esce Eh, niente Dani Nessuno ti vuole bene Sufficienza Eh, mi spiace Solo con me c'hai quel nove magico Sì, perché io? Io, a differenza tua Provo dei sentimenti fortissimi verso di te E tu non li apprezzi Sì, io invece sono così tanto capace di amare Che posso amare tantissime persone insieme Guarda Te lo dimostro Se scrivo Robby con Kazoo Probabilmente uscirà un numero più alto del tuo E invece no Sì, perché, perché E invece sì, guarda Dieci più Io amo chiunque Dani Sono 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 Il signore amore Sono Cupido Sei un Cupido Traditore Cioè tu andresti d'accordo con chiunque Quindi mi potresti sostituire da un momento all'altro Quindi fai attenzione Beh, con Kazoo anche lui ha le stesse passioni per i videogiochi Per l'amore E per YouTube Scriviamo qui il nome della femmina Magari cambia qualcosa La fidanzata di lui È il tuo nome Voglio vedere cosa esce Cosa esce, dici? Sì Beh, Dani Che cosa vuoi che ti dica? E io Ragazzi io non ci sto credendo Stanno succedendo cose assurde in questo video E invece guarda qui cosa succede Da una persona che non sa amare come te Se metti Dani più lui Guarda quale sarà il risultato Forse devo mettere l'accento sulla i Niente Dani Niente Tre Non sai amare Dani Devo insegnarti come si ama Io sono sicura che troverò la mia anima gemella Adesso Sono io Hai avuto nove con me Ah sì E adesso metterò un'altra persona Sono certa che lui mi vorrà Sì ci sono Ecco Vedi Mi sto innervosendo Simone Berlini È uno che sta insieme ad Alessia Lanza Nella Nella cascata Ma se sta con Alessia Lanza Neanche lui ti può andar bene Dani Perché non sai amare Se ci sei tu Non c'è amore Non c'è amore Ci voglio io per l'amore Ti devo insegnare Allora Respira E vedi Ti amo No Non è giusta questa cosa Ragazzi Secondo voi Ti dovrei scrivere E come posso fare a trovare la mia anima gemella Guarda è semplice Riscrivi Robby Perché Robby è una persona che sa dare tanto amore E adesso uscirà un numero alto Dani È sempre così Con Robby c'è un numero alto Quasi perfetto Sai forse chi ti potrebbe amare Chi chi Te stessa Io Vediamo se almeno tu sei capace di amarti Non ami neanche te stessa Allora sai che ti dico Ora metterò Nell'app Della love test Dani più Mia mamma Vediamo se anche mia mamma Mi ama Perché io sono sua figlia Mi deve amare Ma è scritto mia mamma Eh sì Mia mamma Così l'app capisce Allora scrivo mamma Ok Vediamo ora cosa uscirà Se esce Un voto basso Anche questa volta Non sono amata da nessun altro Ma io so amare Anzi io dimostro ogni giorno il mio affetto verso i miei amici Dimostralo Di qualcosa a loro che ti dimostri il tuo amore Amici io lo so che voi mi volete bene E che ogni giorno io vi faccio ridere Passiamo del tempo insieme E quindi Non scrivete nei commenti se mi volete bene Visto tu usi le parole se mi volete bene Non se mi voglio bene Guarda come si fa Amici io vi voglio tantissimo bene Perché voi ci seguite ogni giorno Ed è proprio perché vi voglio tantissimo bene Che continuerò a fare video in cui riuscirò a divertirvi Sì ma anche io penso queste cose Senti Robby Adesso mi hai fatto perdere la pazienza Io e te a San Valentino Non staremo più insieme Anzi Rimetto per ricontrollare la percentuale Perché non mi è molto chiara Più Ninna Robby più Ninna Sì sì Voglio proprio vedere Ma che c'entra Dani Cosa c'entra È un nove D'accordo Allora tu preferisci la mia migliore amica a me Ma ho scelto un nove anche con te No non mi interessa Robby Questo video secondo me può anche finire qui Ciao Dani ma posso spiegarti Io sono un pesce